200.000 euro per sostenere le famiglie nelle attività estive dei propri figli. Da quest'anno però i voucher andranno solamente ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 35.000 euro. Torna così ad Arezzo, tempo bello 2.0. I mesi di giugno, luglio e agosto sono la bestia nera per le famiglie perché i servizi scolastici chiudono e i bambini rischiano di restare senza risposte ludico-ricreative di qualità, mettendo molte famiglie davanti alla grande difficoltà di conciliare tempi della vita con i tempi del lavoro, commenta il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. Per questo, oltre a nidi aperti a luglio, proseguiamo con il progetto tempo bello 2.0. Poi entra nel dettaglio, se la famiglia ha un ISEE entro i 35.000 euro, riceverà un buono di 150 euro da destinare all'organizzazione che ha scelto per l'attività e potrà utilizzare il buono entro la seconda metà di settembre. Il portale per gli organizzatori apre ufficialmente il 29 maggio e dall'8 giugno i genitori potranno scaricare il buono con un semplice click. Si tratta di una misura economicamente molto consistente, prosegue il vice sindaco, perché si tratta di 200.000 euro, ma proprio questa misura permette al comune di dare un sostegno ad oltre 1.300 famiglie. Da metà settembre, infine, prenderà il via il progetto Tempo Pieno, ossia sostegni economici e logistici per le associazioni del terzo settore che organizzeranno le attività di doposcuola diffusi inseriti nella logica di collaborazione istituzionale dei patti educativi di comunità.